A partire da oggi fino alla fine del mese i professionisti, gli intermediari faranno il pieno delle scadenze fiscali, la maggior parte delle quali si concentra proprio oggi, 20 agosto, a seguito della consueta ripresa degli addempimenti dopo la sospensione feriale delle scadenze. Come calcolato dal Sole 24 ore, oltre 4 milioni e mezzo di partite IVA dovranno effettuare i versamenti di saldo 2019 e primo acconto 2020 delle imposte sui redditi e i contributi con la maggiorazione dello 0,40%, in particolare i contribuenti che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio previsto dall'ultimo decreto del 27 giugno 2020, ovvero i contribuenti interessati agli indici sintetici di affidabilità cosiddetti ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario, oggi, 20 agosto, dovranno effettuare il versamento in un'unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando per l'appunto lo 0,40% a titolo di interesse. Coloro che invece si sono alvassi del differimento e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio devono versare la seconda rata delle imposte con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. I versamenti di oggi sono quelli relativi al saldo IRPEF-IRES-IVA 2019, acconto 2020 IRPEF-IRES, addizionali IRPEF, contributi previdenziali, gestione separata INPS, ordine dei giornalisti, cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, diritti camerali. In merito all'IRAP, ricordiamo che il decreto like legge rilancio ha disposto l'esenzione del versamento del saldo IRPEF dovuto per il 2019 e della prima rata pari al 40% dell'acconto IRPEF dovuto per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiore a 250 milioni di euro nel 2019. Rimane l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 per i soggetti che esercitano la propria attività in periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare. La speranza di ulteriore proreghe è poi svanita con la pubblicazione del decreto di agosto, il quale è stato concesso solo uno slittamento dell'acconto del 30 novembre al 30 aprile 2021 per i soggetti con isa forfettari che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al periodo dell'anno precedente. Epiliversamenti già sospesi dall'articolo 126 e 127 del decreto rilancio fino al 16 settembre ha previsto la possibilità di effettuarli senza applicazione di sanzioni interessi per un importo del 50% delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione nel 16 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rate nel 16 settembre. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni interessi mediante la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.